Il treno alto, velocità, traccia rossa, 95, 72, medie ore 10 e 05, il treno alto, velocità, traccia rossa, 95, 72, medie ore 10 e 05, il treno alto, velocità, traccia rossa, 95, 72, medie ore 10 e 05, il treno alto, velocità, traccia rossa, 95, 72, medie ore 10 e 05,